Musica Mania con le vittime sono quattro, cresce il numero delle ragazzine avvicinate nei giorni scorsi da un esibizionista che ha tentato di molestarle, tre casi in città, uno in Valnure. Vicedirettore di un market scappa con l'incasso, si è impossessato di 27 mila euro e non si è più presentato al lavoro, 48enne denunciato per appropriazione in debita aggravata. Placenzia Marathon, già 2000 iscritti, domenica 3 marzo l'edizione 2013 della Maratona, cresce il numero delle associazioni di solidarietà, quest'anno saranno 12 a fianco dell'Unicef. Marco Rancati alla conquista del mercato oltreoceano, il noto cantante piacentino ha pronto una nuova canzone dal sapore pop latino, casting per i ballerini del video e i nostri microfoni ricorda il suo Sanremo nel 1985. Calcio, l'atletico vince al Garilli, 2-1 sulla Pistoiese, domani tocca la Lupa che ospita la San Polese, obiettivo vendicare lo stop dell'andata.